Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV, oggi 24 dicembre, vigilia di Natale e sarà il primo Natale ad Arezzo per il Vescovo Monsignor Andrea Migliavacca che ha fatto i suoi auguri di Natale. Il Natale è celebrazione, annuncio, gioia di una visita, è la visita del Signore in mezzo a noi, è venuto più di duemila anni fa e lo riaccogliamo oggi perché il Natale è celebrazione non solo di ricordo, di memoria, di quello che è avvenuto un tempo ma è celebrare oggi il venire del Signore e ancora di più il Natale ci ricorda l'attesa del Signore che verrà, cioè è una promessa di incontro. E allora la prima cosa che vorrei dire, vorrei augurare a tutti voi è di vivere incontri veri nella vostra vita, quelli dell'umanità che vi accompagna in casa, nel lavoro, nella quotidianità della vita. L'augurio di fare incontri veri, incontri di vita, incontri che vi arricchiscano e l'augurio che l'incontro con Dio sia un incontro vero e è un incontro possibile perché è Lui che ti cerca, ti attende e se ti incontra cambia la vita, rinnova la vita. Tutti coloro che hanno incontrato il bimbo che è nato a Betremme, sottolinea il Vangelo, provarono una grande gioia ed è il mio augurio, l'augurio della gioia. E poi il Natale è un racconto anche di una visita di Dio, è venuto a casa nostra, è venuto, dice Giovanni, a posto la sua dimora, la sua tenda in mezzo a noi. E allora con questo augurio vorrei far visita a casa vostra, che è la casa con le mura, ma è la casa che è la vostra vita. Mi faccio vicino a voi per visitarvi, per portarvi un augurio di pace, ma per parlarvi di questa nascita del Signore in mezzo a noi, per portare a casa vostra questo augurio di pace e di incontro. E allora a tutti voi, dai bambini ai più anziani, chi è sano e chi è malato, i giovani e chi ha impegni professionali, a tutte le nostre famiglie, a te che ascolti, auguri Buon Natale. Sentiamo adesso gli auguri di un altro parroco, di Don Alvaro Bardelli. Un momento importante quando si avvicina a Natale, diciamo che finalmente forse possiamo respirare un momento di vita migliore tutti assieme, però insomma i problemi sono tanti Don Alvaro. Soprattutto per tante persone che in questo momento non possono vivere in pace come viviamo noi, nella serenità. Allora il pensiero proprio per chi in questo momento sente ancora i disagi della Santa Famiglia, come duemila anni fa quando sono venuti a Betremme Giuseppe e Maria. In tante parti del mondo ancora davvero c'è fame, c'è miseria, c'è debolezza, c'è paura, c'è tristezza, c'è freddo. Ecco, allora noi che siamo da questo punto di vista un po' più fortunati, cerchiamo di non dimenticarci di chi non è fortunato come noi. Comunque di vivere con gratitudine questo momento importante, ricordarci che siamo fortunati, che c'è una speranza per tutto e che anche quest'anno risuonerà il canto degli angeli. Vi annuncio una grande gioia, è nato per voi il Salvatore. Questo dobbiamo ricordarcelo nelle difficoltà della vita, c'è sempre questa luce, questa speranza, questa stella che brilla, il Signore Gesù che è il nostro Salvatore. Allora l'augurio è proprio che possiamo riscaldarci a questa luce e illuminarci a questa luce. Ecco il senso dell'augurio che faccio ad Arezzo TV, a tutti quelli che seguono questa importante e bella televisione, mezzo di comunicazione e di vicinanza, un modo anche per sentirci ancora più uniti. Buon Natale a tutti voi. Passiamo alla cronaca. I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Arezzo, assieme ad Arpat e alla Municipale, hanno scoperto in città un terreno posto in corrispondenza di civili abitazioni, all'interno dei quali però insisteva una vera e propria unità locale e operativa di una nota impresa edile e aretina, allestita su terreni agricoli e residenziali. Nell'area inoltre sorgeva anche uno stoccaggio di rifiuti da costruzione e demolizione. L'intervento ha portato alla luce dunque una sorta di sito produttivo di fatto non compatibile con l'attuale destinazione d'uso del suolo e secondo l'ipotesi accusatoria neanche astrettamente autorizzabile. È così scattato il sequestro e nei prossimi giorni proseguiranno gli accertamenti tecnici ai quali non potrà che seguire lo sgombro del sito e la restituzione di quei terreni alla loro naturale destinazione. Sicuramente saranno giornate di lavoro anche per i carabinieri, queste delle festività natalizie, ma lo saranno anche per i sanitari dell'emergenza urgenza. Vediamo il servizio. Se fai Natale non fai Capodanno e viceversa, per cui ormai le nostre famiglie sono abituate a vederci a corrente alternata e questo è il nostro lavoro, lo facciamo all'entusiasmo di sempre, ci piace farlo e a volte Natale si sta sul pezzo a garantire i nostri cittadini. Saranno giornate di lavoro questi giorni di festa a cavallo del Natale, del Capodanno per gli operatori del 118 Aretino, saranno vicini alla popolazione come sempre e ci sarà un rinforzo dal punto di vista sia degli operatori che dei mezzi di soccorso. Il Covid si sta un po' di attenuando ma sta arrivando una bella influenza, il picco deve essere proprio nelle festività. Siamo pronti perché in qualche modo raddoppiamo anche alcuni servizi, qualche ambulanza in più, qualche sanitario in più in servizio perché prevediamo un bel picco. Già abbiamo avuto delle avvisaglie nei fronti soccorsi e comunque hanno avuto un aumento di accessi intorno al 20-30% e questa cosa qua probabilmente durerà per tutte le festività. Qual è il consiglio che si sente di dare alla popolazione nel comporre comunque il numero dell'emergenza durante questi giorni così particolari? Ma io prima ancora di comporre il numero dell'emergenza della popolazione vaccinatevi per favore, i vaccini non sono uno scherzo. Quello del Covid ci ha salvato tante vite e quello dell'influenza ci salva tanto. Gli anni precedenti non abbiamo avuto un'influenza perché portavamo la mascherina. Quindi chi comunque ha sintomi eccetera mette la mascherina, chi comunque sta in posti sopra affollati eccetera mette la mascherina, chi è fragile mette la mascherina. Non è un gioco mettere o non mettere la mascherina, vuol dire proteggere se stessi e gli altri. Che cosa si sente di dire ai suoi ragazzi che saranno al lavoro? Una cosa semplice, grazie, che è la cosa più semplice del mondo ma soprattutto una pacca sulle spalle perché ogni tanto fa bene anche di dire che sono bravi, che sono competenti, che sono empatici, che comunque riescono a dare il meglio di sé sempre e comunque. E per Natale non si fermeranno nemmeno i nottambuli della Croce Bianca di Arezzo. Si tratta di persone comuni con il proprio lavoro, impegni e famiglia ma che hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo agli altri con passione e professionalità. Non ci fermiamo per le feste sabati e domeniche, fanno sapere siamo sempre a disposizione per la collettività e speriamo che qualcuno possa venire voglia di seguirci e unirsi a noi o comunque sostenerci. Parliamo adesso della vertenza seco, la sigla sindacale della Cisla di Arezzo ha annunciato lo stato di agitazione per i dipendenti. Un accordo che stava per essere firmato è infatti poi saltato all'interno alcune richieste dei lavoratori, tra cui quelle delle posizioni contrattuali e dell'inquadramento professionale. Dunque le richieste sono sanare con effetto immediato le posizioni contrattuali non idonee, aprire una discussione certa sul nuovo inquadramento professionale all'interno dell'azienda, aprire immediatamente una discussione sull'andamento economico vero a beneficio di tutti i lavoratori, pena il perdurare delle iniziative, fanno sapere dalla sindacato. E si avvicina la fine del 2022, del tempo di bilanci, sentiamo quello della Camera di Commercio di Arezzo Siena. Beh, avevamo già anche a fine 2021, inizio 2022, segnali di un aumento forte di costi energetici, di materie prime, irreparabilità delle materie prime, quindi i dati non erano proprio così positivi. Poi purtroppo la guerra in Ucraina ha davvero fatto precipitare un po' la situazione. Dobbiamo dire che però le nostre imprese, il nostro tessuto economico ha dato dei risultati comunque buoni. Abbiamo i primi dati dei primi nove mesi di esportazione, che sono comunque molto positivi, e purati ovviamente dal valore legato al costo dell'oro, quindi della produzione di materiali preziosi, ma la gioielleria e anche il made in Italy che sta nell'ultimo periodo crescendo, quindi sia la parte ovviamente legata alla pelletteria anche, ma anche la parte ovviamente moda, e la meccanica è che sono i tre principali settori che guardano all'export e che stanno dando davvero numeri importanti con crescite a doppia cifra. Quindi tutto sommato nella grande difficoltà con cui le imprese ovviamente operano, a cominciare da costi energetici che purtroppo stanno assottigliando i margini, e quindi le potenzialità anche poi di investimento delle imprese stesse, e quindi per il 2023 ci aspettiamo purtroppo, legata anche al costo, all'aumento del costo del denaro, ovviamente prezzi che stanno crescendo in generale, un momento davvero difficile per le imprese, ma oggi ancora stanno dimostrando vitalità e segni di dinamismo che devono essere registrati. Scendendo un po' nel dettaglio, partiamo dal dato che riguarda l'export a Rezzo, in senso globale segna una percentuale comunque sotto la media regionale, però andando nel dettaglio come si può leggere questo dato? Sì, il dato dello 0,5% di export nel terzo trimestre va letto alla luce del fatto che il comparto principale, cioè quello che fa il 40% del nostro export, che sono i metalli preziosi, in particolar modo l'oro, ha avuto una prosecuzione nella diminuzione dei valori di oro esportato significativa, e oltre il 20-22%. L'altro invece, comparto gemello della gioielleria, per esempio, è andato molto bene, e ha registrato un più 25% nel terzo trimestre del 2022 quest'anno rispetto al 2021. Quindi già nell'anno scorso aveva avuto un più 73%, devo dire che questo comparto dell'oreficeria vede luci ed ombre, ma soprattutto luci per quanto riguarda la vendita della gioielleria. E anche l'altro comparto importante, che è la moda, vede un incremento dell'11% e addirittura nel terzo trimestre oltre il 30%. Quindi significa che il comparto manifatturiero, che è caratterizzato da queste due specializzazioni produttive, ad Arezzo va bene. Ovviamente non, ripeto, rispetto al resto della Toscana abbiamo dei volumi inferiori perché i metalli preziosi purtroppo continuano questa discesa e che in termini di volumi di oro esportato risulta inferiore e naturalmente non possiamo dire che questo è dovuto anche a oscillazione del prezzo dell'oro perché il prezzo dell'oro ultimamente è aumentato del 14%, di oltre il 14%, quindi è proprio un dato significativo relativo al fatto che metalli preziosi ne abbiamo esportati meno. Si avvicina la notte più magica dell'anno, quella di Natale. Noi siamo andati in Piazza Grande a vedere come si è preparato Babbo Natale. Prontissimo, molti bambini mi diranno Babbo Natale, Malerenne, La Slitta, Rudolf, sicché volevo dire, gli dico bambini state tranquilli, quando Babbo Natale arriva voi sarete a letto che dormite e la mattina del Natale avete i regali sotto l'albero. Che bello che è. È arrivata la notte più magica dell'anno, quella in cui Babbo Natale scende dai camini per portare doni ai più piccoli. Ad Arezzo intanto in queste settimane sono stati oltre 5.000 i bambini che sono stati a trovarlo nella sua casa in Piazza Grande dove hanno lasciato le letterine dei desideri. Abbiamo avuto un sacco di richieste per quanto riguarda i cuccioli, c'è proprio di animali veri. Invece un bambino ha detto, dato che io vivo in un appartamento e non posso portare il mio animaletto fuori, lo voleva meccanico, ha proprio specificato questa cosa. C'è stata una letterina di un bambino che ha ringraziato Babbo Natale perché è finito il Covid e quindi è ripotuto tornare a giocare con gli amichetti. Molte richieste anche da parte degli adulti, tra cui Babbo Natale paga la bolletta della luce e del gas, è andato per la maggiore quest'anno. Ed intanto la città si prepara ad un altro lungo fine settimana, seppur con numeri inferiori ai weekend precedenti che hanno visto le strutture ricettive occupate per oltre il 90%. Un fine settimana più leggero rispetto ai precedenti ovviamente, però già il tasso d'occupazione alberghiera rispetto a quello dell'anno precedente nel pari periodo è superiore di quasi il 15%, quindi alla fine anche un weekend che, ripeto, non è l'8 dicembre, insomma non è la stessa cosa, un weekend che si presenta come da previsioni più leggero è comunque un weekend positivo. È tempo anche di presepi, vediamo quelli della provincia aretina. La magia del presepe vivente torna ad Oliveto nel comune di Civitella in Valdichiana, un viaggio all'interno del borgo medievale dove sarà possibile assistere alla rappresentazione della natività ma anche di mestieri antichi e di scene di vita quotidiana, due gli appuntamenti in programma il 18 e il 26 dicembre. Anche a Castiglion Fiorentino poi quest'anno torna il presepe vivente che festeggia 30 anni, l'appuntamento natalizio così per eccellenza raddoppia domenica 18 e lunedì 26 dicembre. Dalle ore 17 il centro storico si animerà con scene di vita quotidiana. Alla chiesa del calcinaio a Cortona arriva invece il presepe della pace, un allestimento curato dall'artista Antonio Massarutto che sarà ispirato alla tragedia della guerra. È invece iniziata domenica 4 dicembre la 25esima mostra concorso presepi alla Terina in provincia di Arezzo. Dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia, questa edizione inizia così con lo spirito natalizio più bello, quello della famiglia e della comunità che condivide passione e forza delle tradizioni. Cento i piccoli presepi all'interno di un presepe popolare vivente fatto di persone nel suggestivo borgo medievale. Una mostra online ed un concorso per premiare i migliori presepi realizzati nelle case, nelle scuole e nelle chiese e infine l'iniziativa delle Acli, un presepe al giorno. Sentiamo adesso l'appello lanciato per questo Natale dall'EMPA di Arezzo. Come è andato questo Natale? Le donazioni sono arrivate e poi il solito appello? Gli animali non si regalano ma si adottano. Sante parole, sante parole. È proprio così. Gli animali ce ne sono tanti. Devo dire che in questo momento non abbiamo cuccioli. Per cui il cane adulto è sicuramente più difficile, anche se lo scorso, nel 2022, abbiamo fatto adottare ben 37 cani adulti. Quindi su una settantina di cuccioli. Quindi oltre, cioè 70 cuccioli. Quindi direi che è un numero importante perché sono comunque cani dai tre anni in su. L'appello però è a non comprare gli animali, ma perché, non perché voglio dire, c'è sicuramente un mercato regolare, purtroppo c'è anche quello irregolare, ma è proprio il senso del gesto che forse va condividito in un'altra maniera. Sicuramente e soprattutto io direi che è diseducativo da parte di una famiglia comprare un cucciolo al proprio figlio. Il cane, venite in canile, che lo troverete. Sicuramente possono capitare anche quei sequestri famosi che vedono tantissima affluenza, però il cane, come hai detto te, non si compra, si adotta. Lunedì 26 dicembre alle 17, alla Badia delle Sante Flore Lucilla di Arezzo, Viscantus, insambio con un concerto di Natale. Il recavato andrà a sostegno del progetto Casa Marta per realizzare a Fidenze la prima struttura residenziale in Toscana per cure palliative pediatriche. Vediamo il servizio. Vogliamo proprio allargare il senso della famiglia e quindi Viscantus torna a creare questo concerto, evento a sostegno di realtà bisognose. In questo caso il concerto è offerta libera e sosteniamo quest'anno il progetto Casa Marta che è promosso dalla Fondazione Il Cuore si Scioglie e dall'Unicop di Firenze. Abbiamo il patrocinio anche della Fondazione Guido d'Arezzo e sarà occasione anche per ascoltare musica di rara esecuzione, in particolare musica composta da donne, donne italiane, vissute tanto tempo fa nei nostri conventi, ma anche musica di un autore importantissimo come il nostro Claudio Monteverdi e quindi siamo molto contenti di prestare le voci in questa situazione particolare. Vuoi fare gli auguri? Certo, auguri, auguri, auguri a tutto il mondo, di pace. Parliamo adesso di tradizioni culinari e andiamo a scoprire come si fanno i cavallucci. Il cavalluccio è un prodotto della tradizione che ancora oggi batte forte nei nostri cuori, soprattutto nel mio e mio fratello. Quando eravamo piccolini, già 4-5 anni, con la nonna Pierina, andavamo a fare i cavallucci. Era un momento poetico perché vedere sciogliere lo zucchero, mettere dentro gli ingredienti, sfornare i cavallucci, prenderli in mano, sbatterli dalla farina, poi dopo qualche ora imbustarli era una giornata memorabile. Più che un prodotto natalizio, il cavalluccio per Menchetti è famiglia. Guai a toccare la ricetta originale. Abbiamo la fortuna di preservare tutto quello che ci è stato trasferito. Ci sono delle cose che non possono essere modificate. Il cavalluccio viene fatto nelle stesse identiche maniere come prima. Farina, canditi non trattati con la nitrite solforosa, noci, spezie. Il segreto, se vogliamo dirlo, ha un ricordo vivo ancora oggi della cottura dello zucchero. Mia nonna prendeva lo zucchero, lo girava con il mestolino e poi lo prendeva su due dita. Allungando le due dita vedeva quanto filo faceva e a quel punto era un momento buono di prendere lo zucchero. Poi questo impasto ci spiegava che va lavorato subito, altrimenti si rovina. Esatto, perché lo zucchero è caldo. Finché è caldo lavori l'impasto, dopo mezz'ora che lo zucchero inizia a tirare non riesce più a lavorare il cavalluccio. È un prodotto chiaramente che non va consumato caldo, anzi si apprezza un mese, due mesi, anche tre mesi dopo la sua sfornata. Un prodotto che oggi si consuma solo durante le feste di Natale, ma che i nostri nonni conservavano nel tempo. Chiaramente è un prodotto ricco di frutta secca, ricco di spezie con il suo zucchero, paradossalmente nel tempo acquista valore e profumo. C'è una regola però per rispettare la tradizione. Quindi ricordiamo il cavalluccio non si taglia, ma si spezza con le mani. Assolutamente. Eccellenze gastronomiche anche al centro, come sempre, della puntata di Gustar che andrà in onda questa sera dopo il Tg. Per stasera è tutto, io vi auguro un sereno Natale. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.